Tasselli importanti per la ricostruzione della casa Maranto. Ieri la SD Reggio Calabria ha concluso i primi tesseramenti con i giocatori già in ritiro. Il primo a sottoscrivere l'accordo è stato il regino Domenico Zampaglione. Tra gli over hanno firmato anche Arena, Corso, Lavrendi e Roselli. Per quanto riguarda i giovani saranno parte della Rosa, Bramucci, Carrozza, Maesano, Mangiola e Russo. In settimana dovrebbe arrivare anche la firma del giovanissimo ma forte centrocampista classe 97 Ninni Meduri. Le operazioni però non sono ancora concluse, anche gli altri giocatori presenti a ritiro dovranno essere tesserati e c'è già una grossa tegola sul club presieduto da Mimmo Praticò. L'attaccante ex Siena Crocetti ha lasciato il ritiro di Cittanova per attendere a Reggio che siano ridiscussi i termini dell'accordo. L'altro caso della settimana Maranto si chiama Fabrizio Di Bella. Mercoledì sembrava certo che avrebbe indossato la casacca della regina, ma l'accordo non è mai arrivato e l'affare sembra essere sfumato. Per la porta si cerca ancora un under, occhi puntati sul ventenne regino Loris Cannizzaro. Il portierino l'anno scorso in forza al Catanzaro si è detto onorato dell'interessamento del club a Maranto.